Ciao ragazzi, oggi vi svelo i 5 segreti per pianificare l'avventura perfetta in moto. Adventuring significa avventura. E quale miglior modo per preparare un'avventura se non pianificarne una no stessa? Questo è il massimo! Se la vostra avventura è in una zona in cui c'è copertura cellulare, allora con un'app come Whiplive potete anche essere tracciati in tempo reale da chi vi segue da casa, altrimenti dovete munirvi di uno strumento di tracciamento satellitare come Garmin & Rich in grado di inviare la posizione anche senza copertura cellulare. Poi oltre al classico casco occhiali-guanti portate sempre una pettorina, uno zainetto dove mettere varie ed eventuali tra cui barrette e biscotti e a prescindere che siate nel deserto o in montagna portate sempre una riserva d'acqua. Un camelback come questo con 2-3 litri è fondamentale. Nel deserto mai ingrassare la catena. Se hai intenzione di fare più di due giorni nella sabbia, impara a fare il cambio dell'olio, filtro aria e come sostituire i dischi della frizione. Un consiglio? Fai tutto prima a casa e porti solo le chiavi e le pinze che hai usato, perché a volte per una pinza sbagliata si possono fare dei grandi casini. E visto il successo di questo viaggio in Tunisia, farò una terza parte in cui vi mostro come ho pianificato il giro che io e il mio compagno di viaggio Andy abbiamo fatto tra i set di Star Wars e le due di Xargylan vicino ad Uzz. Quindi mi raccomando, seguitemi, mettete like e commentate per il prossimo terzo video della rubrica. Ciao! Questa è la frase della giornata. Zucchero, zucchero di più.